Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 delle migliori sedie da pranzo. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i prodotti e le migliori offerte del momento. E adesso passiamo alla top 3 delle migliori sedie da pranzo. Quindi cominciamo con le sedie da pranzo ben in led. Cominciamo con queste sedie da pranzo in termini di rapporto qualità prezzo. Queste sedie sono davvero le migliori che si possano trovare sul mercato. La qualità è buona, il design è eccellente e il prezzo è ottimo. Infatti per meno di 200 euro avrete un totale di 6 sedie per la vostra sala da pranzo. I colori disponibili per l'acquisto sono molti. Si può scegliere tra il bianco, il nero e il grigio per i colori classici ma si possono trovare anche altri colori più originali. Apprezziamo anche il comfort che è davvero ottimo e la qualità della fabbricazione che è davvero buona, durevole e resistente. Poi troviamo le sedie da pranzo Wall 2. Passiamo a un modello più raffinato e di design con queste bellissime sedie da pranzo di Wall 2. Come potete vedere qui abbiamo sedie da pranzo dal design scandinavo. Queste sedie sono note per il loro design molto moderno e bello. Oltre a questo sono anche ottime sedie perché sono ultra confortevoli ed ergonomiche. In effetti ci si siede perfettamente e ci sono persino dei poggiagomiti per un comfort ancora maggiore. Sono disponibili diversi colori per l'acquisto. Le sedie sono in velluto per un comfort ancora maggiore. E per finire ecco le sedie da pranzo al Batrosso. Passiamo alle sedie da pranzo più economiche sul mercato con queste sedie. Anche in questo caso abbiamo un set completo con 6 sedie in totale. Si tratta di una soluzione molto pratica in quanto è possibile acquistare direttamente tutte le sedie necessarie per la sala da pranzo. Ecco grazie per aver seguito questa top 3. Spero che ti sia stata utile. Non esitare a mettere un like, un commento e ad iscriverti al canale. È sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò. E su questa nota ti dico a presto per un nuovo video. Ciao!